Il segreto. Trama puntate dal 22 al 28 maggio 2017, Beatriz manovrata da Lias Mato anticipazioni settimanali. Le anticipazioni Il segreto sulle puntate trasmesse dal 22 al 28 maggio 2017 rivelano che Beatriz scopre casualmente chi è suo padre e si tratta proprio di Hernando, che potrebbe aver ucciso sua madre Manuela e il fratellino Damian. Mattias, dopo aver realizzato un furto con i suoi fratelli, decide di lasciarla. Francisca non permette a Puri di recarsi in tribunale per testimoniare contro di lei, mentre una bellissima sorpresa attende Emilia. Una lettera da parte di Maria che la informa che Beltrion si trova a Cuba con lei e con Gonzalo. Cristobal scopre la verità riguardo la morte di Salvador Castro, suo padre e, continuando ad indagare ritroverà i suoi resti. Ecco la trama dettagliata della puntata Il segreto trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 22 fino a domenica 28 maggio 2017. Partiamo come sempre dalla prima puntata Il segreto della settimana, in cui Mattias, ricattato dai fratelli, si comporta in maniera ambigua nei confronti di Beatrizide sul punto di interrompere la sua relazione con lei per non farla soffrire. La sfilata in costume da bagno si è rivelata un vero successo, e Gracia è molto felice. Alfonso ed Emilia rivillano a Cristobal che Salvador Castro non è annegato, ma è stato colpito dalla figlia Soledad per evitare un'aggressione a lei ed a Juan. Il suo cadavere è stato sepolto nei pressi di un fiume. Francesca lascia intendere in presenza di Severo di aver provocato volontariamente l'incidente al mezzo che stava trasportando i vaccini a Pentevieio solo allo scopo di danneggiare la Fondazione Santa Cruz. Camilla riesce a trovare un buon avvocato disposto a difendere il suo merito. Mattias senza dare spiegazioni decide di interrompere la relazione con Beatrizio. Elias è convinto che Mattias sia stato per tutto il tempo complice di Hernando e che lo abbia tenuto nascosto. Don Berengario è furioso per il suo arreppimento, ma soprattutto perché la sfilata alla fine ha avuto luogo, per questo motivo ordina ad Onesimo di far chiudere il negozio di Gracia. Francesca è indagata per avvelenamento e, per potersi salvare, impone a Mauricio di disfarsi del problema principale, ovvero gli ordina di uccidere Puri. Carmelo e Severo decidono di contattare Aurora per potersi procurare i vaccini per i bambini. Cristobal prende di Mire Castagneda e gli impone di farsi portare nel luogo in cui è stato sepolto Salva d'orcastro. Alfonso e Ramiro trovano il corpo di Salva d'orcastro e così Cristobal ha una strana reazione. Puri parte per il tribunale, ma anche se gli uomini di Carmelo la pedinano, la donna riesce a far perdere le sue tracce. Arrivano buone notizie a Miela Amarga, i vaccini sono disponibili, anche se costano uno sproposito. Tuttavia, i Santa Cruz e Carmelo sono disposti a rinunciare alle quote del biscottificio pur di far vaccinare gli orfani. Intanto, l'anello che Carmelo ha donato alla fondazione sparisce, e Sol sembra sospettare dell'amica, Filo. Dopo il successo della sfilata, Don Berengario chiede al municipio di chiudere il negozio di Gracia. Ernando rifiuta di rivelare chi sta coprendo ma, deciso a scontare la sua condanna, far capitare a Camila i documenti con i quali cede a lei e a Beatriz tutti i suoi beni. Camila, a sua volta, rifiuta di accettare la decisione del marito e chiede di parlargli. Camila e Elias hanno un'accesa discussione durante la quale Beatriz scopre che Ernando è suo padre. Cristobal decide di andarsene da Puente e Viejo, ma prima di farlo intende salutare e scusarsi sia con Donna Francesca che con Raimundo. Amiel e Amarga sono tutti preoccupati per la scomparsa di Puri e temono il peggio, intanto, Sol scopre che è stata Filo a rubare l'anello a Carmelo, oltre che i suoi gioielli. Severo accusa Francesca della scomparsa di Puri, ma lei nega tutto e cerca anche di convincere Raimundo della sua estraneità al fatto, ma Raimundo non le crede. Filo racconta a Sol di avere una figlia gravemente malata e che i gioielli li ha rubati per poterla curare. Elias approfitta del dissapore creatosi tra Camila e Beatriz e cerca di portare la ragazza dalla sua parte. Gracia e Fe, temendo l'ira di Don Berengario, decidono di raccontargli in confessione quanto accaduto. Sol parla a Lucas della figlia di Filo e lui decide di indagare in merito. Camila chiede a Beatriz di aiutarla a scoprire la verità su Ernando. Beatriz rifiuta categoricamente di andare a fare visita ad Ernando. Raimundo è sempre più convinto che Emilia gli nasconda qualcosa su Cristobal e prova in ogni modo a carpirle la verità, ma lei non cede. Don Berengario l'ordina ad un gruppo di bigotte di picchettare il negozio di Gracia, deciso a farle chiudere l'attività. Francisca, per recuperare la fiducia di Raimundo, trama un inganno per fargli credere che lei non c'entra niente con la sparizione di Puri. Il camion con i vaccini arriva a Puente e Viejo e Francisca organizza un boicottaggio. Beatriz ha una crisi nervosa. Lucas teme che possa perdere nuovamente la parola e consiglia a Camila di farla ricoverare in una struttura specialistica. Ippolito cerca di far riappacificare Don Berengario e Gracia, ma l'impresa appare molto più difficile del previsto. Mattias confessa infine a Beatriz perché ha deciso di troncare con lei. Emilia riceve una lettera da Maria, informandola che Bertrand accuba con lei, Gonzalo ed Esperanza. Termina qui, il racconto sulle anticipazioni il segreto ma non perdete le incredibili novità che riguardano i protagonisti della seguitissima telenovila spagnola.